Allarme di emergenza! Leader chiama Protectobot! Uniti contro il pericolo! Transformers! Io, Defensor, sono la forza buona! E tu, da che parte stai? Solo gli originali Transformers hanno lo scudo di riconoscimento a cristalli liquidi! Autorabot! Ogni confezione Transformers è un grande tesoro! Scopri tutti i segreti del magico visore! Solo da GIG! Sono la forza buona!